La Camera approva per 266 voti di differenza. A questo punto dobbiamo sospendere la seduta per consentire una breve riunione del Comitato dei Nove per esprimere il parere su un subemendamento che è stato presentato. Chiedo alla Presidente Ferranti se, onorevole Ferranti, mi scusi, mi sa dire di quanto tempo avete bisogno per la sospensione? Al massimo 10 minuti, Presidente. Va bene, allora, la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 12.45. Grazie. 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 Grazie.